Estra, multi utility energetica, entra nel ciclo integrato dei rifiuti. Il gruppo ha infatti acquisito il 12% di Ecolat Grosseto, società attiva nella gestione dei servizi ambientali della Toscana e socia a sua volta di Sei Toscana. La rete gas di Centri e la società di distribuzione di Estra è tra le più sicure in Italia, lo sostiene l'autorità di settore. Centria, che gestisce 5.100 km di condutture, ispeziona tutta la rete in media 3,4 volte l'anno. Prometeo Estra apre un nuovo store a San Severino Marche. Presso lo store, in funzione dai primi di settembre e da lunedì al sabato, è anche possibile acquistare prodotti per il risparmio energetico. Estra Energie vince numerose gare per la fornitura di oltre 87 milioni di metri cubi di gas ad autostrade italmercati, ai consorsi pubblici lucani e toscani, agli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso, Pisa e Firezze.